bentornati su my football jersey ritorniamo in inghilterra per vedere la maglia di un'altra grandissima squadra inglese su un altro con una grandissima tradizione questa è la seconda maglia dell'aston villa in edizione fan l'edizione dedicata ai tifosi per la stagione in corso ciao La maglia non è niente male Questa secondo me è un po' grande Mi sono sbagliato Ho preso una L della versione fan In realtà la mia taglia è una M Il costo lo vedete qui sopra Molto basso Per una maglia che arriva molto velocemente E con degli ottimi dettagli e ottima qualità Se volete maggiori dettagli Andate qua in descrizione dove trovate tutti i riferimenti Andate a vedere perché sul sito ci sono fantastiche iniziative e offerte che vi aspettano Ora vi lascio la parte finale Prima però iscrivetevi al canale È un piccolo gesto ma che ci aiuta a mostrarvi maglie come questa tutti i giorni Per oggi è tutto Alla prossima Alla prossima Grazie.